Parte da Foggia la mobilitazione di medici e personale sanitario dopo le violenti aggressioni al policlinico dei giorni scorsi. Le aziende devono essere obbligate a mettere in piedi dei sistemi di tutela per quanto riguarda di sicurezza delle cure da un lato ma anche degli operatori sanitari. Il pronto soccorso in particolare è quello più bersagliato perché è la prima porta dell'ospedale, cioè l'agenda quando ha bisogno la prima porta che trova aperta è quella del pronto soccorso, è un certo quella del reparto. Ci sentiamo indifesi, abbiamo l'angoscia che dietro ogni paziente si nasconda un'aggressione, dicono agli operatori sanitari. Sotto organico con il potenziamento delle forze dell'ordine arrivato di recente, i medici lamentano un cortocircuito culturale con i pazienti. Oggi alla base di questo sicuramente c'è la frattura che si è determinata fra il cittadino e la sanità pubblica. Quello che occorre oggi è ricostruire un patto e un'alleanza tra gli operatori sanitari e la popolazione. Il personale medico fa fronte alle difficoltà che il sistema crea e fare fronte ad una difficoltà di per sé crea una difficoltà ulteriore nella comunicazione perché noi siamo pochi e abbiamo tanto da fare. Noi dobbiamo comprendere che dietro ogni diritto c'è un dovere. e questi sono gli stessi medici che sono quelli che ci salvano la vita. Dalla Puglia sale la richiesta di interventi strutturali e organici per la sanità. Qui dobbiamo ovviamente capire cos'altro ci serve per far funzionare tutta quella programmazione che abbiamo messo in campo sul territorio col PNRR per garantire questo passaggio chiamiamolo così generazionale nel senso che ci consente di ripristinare questo patto sociale tra cittadino e medico.